buongiorno allora mi sposto qua che col faro in mezzo allora l'argomento vedo che vi vi attira vi racconto un po chi sono e cosa facciamo noi come 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 gruppo allora noi siamo un'attività una società abbiamo più società questo non specifico con cui siamo qua è una società che si occupa di cambiare in meglio le aziende sia lato operation che lato risorse umane per perché le due cose non sono sono assolutamente totalmente collegate vi dico altre attività perché abbiamo anche delle attività di cui a cui partecipiamo come azionisti di produzione perché crediamo che la credibilità la dimostri sul campo non la dimostri con le parole quindi tutto ciò che voi vedete qua noi prima di dirvelo l'abbiamo testato da noi pro e contro di testarlo da noi quindi questo argomento incuriosisce molto e ci capita spesso o meglio ci capita molte volte che le persone vengono fanno proclami impressionanti oppure abbiamo dei responsabili che mi dicono glielo ho detto ma non lo ha fatto e quante volte glieli detto una soprattutto dove all'interno delle nostre aziende le aziende medie italiane abbiamo una età media piuttosto alta in genere soprattutto quando parliamo di responsabili e sappiamo tutti o meglio penso che il cambiamento per le persone che lavorano da più tempo nell'azienda è la cosa più difficile anche messi in condizioni particolarmente negative perché succede questo? la prima cosa buone promesse cattive implementazioni vengono fatti dei grandissimi proclami poi quando devono mettere in opera le attività non ci siamo cosa possiamo fare noi per aiutare queste persone? incominciamo a chiedergli come pensano di fare l'attività qua è un errore che poi man mano oggi lo vediamo sono dei piccoli errori che noi commettiamo per fretta per velocità perché diamo per scontato che le persone capiscono più delle volte diamo scontato che quello che pensiamo noi lo pensa anche quello davanti a noi direi che proprio non è così quindi iniziamo a chiedere le persone come pensano di implementare ascoltiamoli poi ci sono altre metodologie su cui sulle quali lavorare per far sì che questo processo sia e mi permetto di prendere la lavagna chiaro incominciamo a dire per esempio dove sono e dove voglio andare scusate la calligrafia e tutto questo messo con elementi numerici misuriamo quello che noi non facciamo è misurare il cambiamento misurare i processi produttivi misurare come funzionano le nostre persone tutto è misurabile se non misuriamo non possiamo capire se funzioniamo giusto quanti di voi hanno gli indicatori su tutta la vostra azienda o avete un indicatore che guida la vostra azienda al di là del fatturato del margine il fatturato e il margine sono una conseguenza di processi di attività che funzionano correttamente non sono l'obiettivo se ogni dipartimento nell'azienda ha degli obiettivi chiari e li rispetta il sistema funziona altro aspetto non dicono quello che vogliono vedete quel cane quel cane invece dice bene quello che vuole o meglio lo fa capire non ci raccontano mai la verità fino in fondo poi vedremo perché perché hanno paura perché non sono sicuri di si stessi perché non credono in quello che stanno per dire hanno paura del giudizio sono tutti elementi che arrivano dalla nostra storia dalla nostra cultura c'è gente che si fa dei film ancora prima di arrivare a fare un colloquio tanto se mi diranno di no e se mi dicono di no e cercherò di trovare la soluzione e ma se la trovo soluzione mi fa un'altra domanda e non sono ancora entrati a parlare con questa persona sono ancora fuori voi immaginate quando si siedono davanti alla persona con cui devono confrontarsi che tipo di stress hanno già accumulato prima di arrivare quindi non ti diranno mai quello che vogliono perché le persone esterne adesso è brutto dire facciamo anche noi quando viene un consulente in azienda fa quattro domande questo qua maggior parte dei casi i tuoi collaboratori gli vomitano tutto quello che hanno degli ultimi 30 anni la domanda viene a te stesso dice ma perché a me non lo raccontavi e ma te non posso poi magari mi richiami mi licenzi forse così facile quindi non si esprimono dobbiamo trovare la formula per farli per far sì che le persone condividano e la formula è semplice togliamo delle mettiamo un paio di regole molto semplici uno a domanda stupida per quanto stupida l'accetto e ascolto non ci sono colpevoli e un'altra piccola regola se c'è un problema mi dai anche una soluzione perché se viene a vomitarmi un problema e non mi dai una soluzione il mio ruolo si chiama psicologo ho sbagliato lavoro abbiamo sbagliato voi provate noi lo facciamo io lo faccio spesso quando mi arrivano e mi dicono ho questo problema di con la soluzione e non ce l'ho e allora non c'è il problema quando avrai la soluzione torna vi dico che le prime volte di impatto forte perché la gente va via dice sono andato per farmi dare una mano questo come ha mandato indietro senza la soluzione ma se noi continuiamo a dare le soluzioni cosa che i vecchi imprenditori fanno io papà che mi ha insegnato questo lui diceva che la domanda stupida non rispondeva ma questo un altro discorso poi valutare qual era la domanda stupida era divertente ma dare insegnamento e dare le linee guida dicendo quello che devono fare rischia che poi a un certo punto noi ci troviamo sommersi di lavoro siamo over non riusciamo a coprire tutto non riusciamo a controllare tutto e ci troviamo in un loop dove ci lamentiamo del fatto che i nostri collaboratori non fanno ma li abbiamo abituati noi a non fare siamo stati noi a primidiglia quello che devono fare quando gli chiediamo di fare non lo fanno a ragione loro io faccio anche un'altra affermazione quando ogni tanto parlo con i miei soci dico ma lo stipendio lo paghiamo sì paghiamo bene sì se paghiamo uno stipendio di responsabile è un responsabile deve rendere come un responsabile perché se no sto pagando uno stipendio sto buttando dei soldi e oggigiorno buttare dei denari non so chi può permetterselo giusto quindi aiutiamoli a parlare perché hanno una grandissima paura della verità tutti abbiamo paura della cruda verità invece adoro quando mi sbattono la verità in faccia anche se mi fa male perché più mi fai male se io ho carattere o se anche se non ho carattere o qualcuno che mi aiuta a andarne fuori io supero il momento siete gelati fa male la verità quando ti dicono che non hai performato dovere o quando ti dicono hai sbagliato girano un po le scatole per non essere quando ti danno che hai fatto un errore fatto un errore grave fatto un errore di distrazione io mi arrabbio tantissimo con me stesso quando sbaglio giusto sbagliato è un po sbagliato perché non si può far sempre tutto giusto ma è qua che entra il gioco la squadra aziendale quasi tutti insieme lavoriamo insieme e ci aiutiamo ne andiamo fuori ma il concetto di team al di là di team building belli dove andiamo in montagna a camminare che ce la raccontiamo mangiando lo spiedo faccio tutte queste cose che è bellissimo che torna utile il team non lo vedi solo la il team lo vedi anche nella vita di tutti i giorni e il più delle volte da italiani non lo vediamo quando siamo nella difficoltà più alta lo vediamo quando le nostre aziende incominciano a perdere soldi ci sono delle grosse difficoltà allora lì la squadra la vede li veniamo fuori io ho avuto la fortuna di vivere in tante nazioni ma vi posso dire che a dispetto dei giapponesi dove io ho imparato tantissimo preso degli schiaffoni inenarrabili ma ho imparato tantissimo e schiaffoni fisici veri noi italiani abbiamo una creatività estrema disciplina dio c'erano totta dal vocabolario a differenza di tutto il mondo dove c'è in molte nazioni una grandissima disciplina ma creatività zero cerchiamo di implementare delle piccole regole poche condivise con tutti non più tardi di un mese fa in un'azienda dove stiamo facendo un percorso di cambiamento che fa parte della nostra rete abbiamo definito le regole personali una non dire parolacce sono fine non dire bestemmia perché c'è qualche capofficina che arrivava la bestemmia poi arrivava lui però anche tu entri in azienda e sentire un certo torpilocchio in azienda non è piacevole portarsi rispetto cioè regole semplici ma sono regole che hanno permesso di andare oltre hanno permesso di rompere quel muro in cui il muro della paura il paura di dire poi ogni tanto li prendi andiamo a bere il caffè ti metti davanti alla macchinetta al caffè questo ce l'hanno insegnato i nostri vecchi e incomincia dire qual è il problema poi quante volte i vostri collaboratori le persone che lavorano con voi portano problemi da fuori li portano dentro tra quelli che si sono separati tra quelli che ha la moglie che tra quelli che hanno il marito che non c'è mai tra quelle che quei problemi arrivano in azienda e se noi non gli diamo una mano a superare anche quei problemi comunque inficia sull'efficienza aziendale quindi più gli aiutiamo anche sul mondo esterno più aiuteremo noi stessi a migliorare i nostri sistemi sovraccarico qui io tratto un tema notato sempre le email quanti mail avete non lette sui vostri telefoni si perde mi piace certe caselle di post con 1754 email da leggere oppure la sindrome quelli della sindrome con mail zero io ho un mio socio a torino che ha la sindrome della mail zero e devo leggerle subito cioè tu sei in riunione arriva la mail la legge ma tutti i due scenari no siamo sovraccarichi di informazioni siamo sovraccarichi di comunicazione di 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 attività che vengono tutti i giorni incominciamo a pianificarle e chiudere il numero di progetti quanti progetti avete mediamente in azienda progetti 10 20 30 50 poi più grande l'azienda più sono esponenziali sono andato in un'azienda qualche anno fa volevano fare un progetto di miglioramento la mia prima domanda po stupida ma quanti progetti avete in pista a 22 ok quanti stanno andando avanti zero ottimo e perché volete fare un progetto come mettiamo il 23esimo facciamo una cosa o lavoriamo sui 22 e ne puliamo qualcuno o sarà è stato un piacere conosce invece vediamo quando avete finito i 22 progetti perché poi qual è l'effetto che noi mettiamo roba altro progetto il progetto non funziona ecco vedi te l'ho detto che quelli non capivano un cacchio lo sapevo che non avrebbero portato avanti il progetto capito ma gliene hai dati altri 18 prima e continuiamo a sommare in più ogni volta che selezioniamo le risorse per i nostri progetti le selezioniamo a panza cioè livello di competenza livello di motivazione e dopo lo vediamo l'avete mai misurato voi avete mai misurato avete mai chiesto quanto sono motivate le nostre persone all'interno della vostra azienda avete mai chiesto i vostri collaboratori o alle vostre colleghi perché lavorano in quell'azienda parte quelli che ti dicono per lo stipendio e va bene e ci sta nessuno lavora gratis ma quanti hanno uno scopo in qual interno di quella azienda hanno un obiettivo e non dico diventare il presidente dell'azienda anche lì un caso a uno gli abbiamo fatto un colloquio con la proprietà in parte e gli ha detto io voglio fare l'amministratore legato in questa azienda il proprietario all'inizio sgranato e poi ha detto sai che non è una brutta idea se diventi bravo mi farebbe anche piacere non c'è mai riuscito questo è un dettaglio ci ha provato però il tentativo l'abbiamo fatto quindi misuriamo anche qua scusate uso ancora il termine misurare definiamo quali sono i progetti non possono essere più di otto i progetti che avete in carico più di otto è overload progetti importanti intanto i progetti dove sono coinvolte più persone progetti dove è definito un punto di partenza definito un punto d'arrivo è definito un arco temporale chiaro che in genere non deve andare oltre i 12 mesi quali sono progetti di soddisfare le richieste di un cliente non è un progetto ok a meno che voglia un prodotto particolare nuovo dobbiamo studiarlo dobbiamo fare un'attività particolare e qua andiamo sul tema personale motivazione lo dicevo prima quanti sono realmente motivati quanti vengono in azienda la mattina che bello vado a lavorare e quanti di voi dicono la mattina che bello vado a lavorare sul braccio e siamo un po pochi però voi non vi siete girate ma vi dite credetemi eravamo pochi sono pochi e perché non non vi dite che figata vado a lavorare chi ha il coraggio di dire perché non non riesce a dire che bello vado a lavorare da i colleghi i titolari il cliente che mi trappostante oggi arriva beh io stamattina ragazzi mio amministrativo si è beccato quattro mesi stamattina che quando ho aperto la casa di posta secondo me gli è venuto un coccolone però ti posso capire sono d'accordo le aziende sono fatte di persone non di impianti uno degli elementi di mio personale rammarico di cui della famosa 4.0 che in italia è anni che spopola allora 4.0 in italia è compri impianti nuovi e ho lo sgravio fiscale punto finito poi ho messo la macchina più potente veloce del mondo super performante due domande uno c'è il mercato che mi permette di acquisire roba per dargli da mangiare a questo impianto nessuno l'ha fatto la sua domanda due le persone che lavorano nella mia azienda hanno accettato questo tipo di cambiamento radicale perché magari gli hai cambiato una macchina da a b gli hai cambiato completamente il modo di lavorare li prendi li metti lì e cacchio non è capace a far andare le macchine nuove fermati prima di farlo devi spiegargli il perché dovevi spiegargli come funzionava devi capire io faccio l'esempio della manutenzione oggi tornando all'overload siamo pieni di informazioni sappiamo che il motore 25 della linea 42 si sta surriscaldando ok parlando di produzione ora adesso che lo so è grave non è grave devo intervenire non devo intervenire chi interviene tutte informazioni che si perdono no siamo bombardati ma nessuno prende un'azione e lì andiamo poi lo vediamo dopo su prendere delle decisioni non si decide più niente è tutto fermo e collega no questo anche questo immobilismo è una rottura di scatole è sempre quell'altro che deve decidere adesso ho avuto la ogni tanto mi capita di lavorare per delle grosse monti nazionali ci abbiamo impiegato otto mesi a comprare degli impianti nuovi ma non perché serve perché servivano perché quelli attuali hanno 26 anni cioè li teniamo su c'è un operaio che tiene sulla paratia per farla andare perché tra poco va giù e il management abbiamo fatto ripeto otto mesi di riunioni per spendere 5 milioni che posso dire sono tanti ma quando hai un'azienda che ha scusate vi dico qualche numero non dico il brand 4 miliardi di euro in cassa non te la fai la paranoia se poi il ritorno dell'investimento è in nove mesi giusto nessuno voleva decidere alla fine ovviamente gli operativi hanno detto fidatevi lo facciamo qualcuno alla fine ma ci sono voluti tanto tempo abbiamo perso la 4.0 egevolazione fiscale persa perché la macchina ce la daranno fra fra un anno e mezzo altro tema interessante motiviamo le persone diamogli un motivo per il quale devono lavorare con noi diamogli una buona ragione di essere parte di questa azienda non voglio parlare di mission division ma facciamogli almeno capire dove vogliamo andare tra una settimana tra un mese parlare di 35 anni oggi la vedo un po dura però quantomeno avere un orientamento una direzione può facilitare le persone a capire perché sono parte di quell'azienda è un altro elemento che me l'ha detto un professore universitario mi ha detto dobbiamo far innamorare le persone di quello che fanno non c'è amore io arrivo faccio il mio e vado a casa perché molti responsabili quelli che hanno detto hanno alzato la mano perché amano quello che fanno perché ci credono in quello che fanno se non lo amo che cacchio sto a fare lì dentro al di là dello stipendio fiducia quanti si fidano dai propri colleghi lei meglio di no non me lo dica fiducia reciproca o il capo quanti realmente quanti di voi sono responsabili si fidano ciecamente dal proprio staff una due tre qualcuno bene bello fidarsi no perché sai di poter contare su qualcuno sai che quell'attività se assegnata verrà fatta da qualcun altro quel qualcuno la fa se parliamo ripeto intanto abbiamo qualche vecchio imprenditore che non si fida neanche di se stesso o quelli che anche i manager che non si fidano di se stessi diamo fiducia alle persone aiutiamoli sbagliano è sicuro che sbagliano o è sicuro che lo faranno diverso da come lo faremo noi ma qual è l'obiettivo l'ha raggiunto l'ha raggiunto in maniera legale senza barare bene anzi magari ho io da imparare a come ha fatto raggiungere quell'obiettivo con un metodo diverso dal mio diventa auto formativo quindi diamo supporto alle nostre persone aiutiamoli a concentrarsi focus e concentrazione restringiamo l'abbiamo detto prima troppe cose insieme troppe attività contemporaneamente troppe riunioni inutili o riunioni in cui tutti scusate a me da un fastidio il telefonino scusate suonato il mio fatto la figura del cioccolataio ma le riunioni dove tutti hanno il telefono oppure quelli che durante la riunione che si fanno i cacchi loro con le loro mail dice ma non è che ho chiamato la riunione perché forse ne abbiamo fatte troppe forse non era necessaria quella figura quante ore buttate via in riunioni inutili o quanti di voi escono da una riunione con un piano di lavoro con chi deve fare cosa entro quando troppi questa volta non ha alzato il braccio nessuno una due buono perché esco facendo delle riunioni entri che il problema è a esci e ci che dici ma l'ha è rimasto tenersi aggiunto la b e la c e devi fare un'altra riunione per risolvere b e c e la ancora la quindi se abbiamo fatto riunione per a vuol dire che non era necessaria se poi cioè tutto noi andiamo a complicarci la vita semplifichiamo le cose misuriamo le diamo dei limiti dobbiamo essere un po rigidi dobbiamo darci qualche regola abbiamo detto prima la disciplina è fondamentale e in ultimo gli obiettivi parte tutto da qua l'ho messo apposta per ultimo se non diamo e non definiamo obiettivi la gente non sa dove andare ogni dipartimento ogni singola persona deve avere il suo obiettivo chiaro faccio un esempio di un'azienda nostra noi abbiamo preso due anni fa questa azienda italiana sessantina di persone totalmente nessun obiettivo abbiamo iniziato impostando gli obiettivi azienda che perdeva soldi abbiamo iniziato a girare perché le persone hanno incominciato a focalizzarsi mia colpa ho detto vacan capito mi sono messo indietro la curva ha incominciato a scendere la responsabile della produzione mi è venuta a dire per favore torna a fissare il nuovo obiettivo sostieni gli obiettivi abbiamo ripreso a sostenere gli obiettivi facciamo una riunione una volta la settimana di un'ora e mezza ognuno dice dove vera dove sta andando come lo sta facendo quali risultati numerici ha ottenuto li condividiamo col gruppo responsabile e in un'ora e mezza tutte le settimane noi abbiamo il punto esatto della situazione aziendale è semplice ma deve essere fatto in maniera sistemica e questo lavoro lo dobbiamo fare noi come responsabili noi come consulenti esterni dobbiamo forzare perché lavoro oggi dei consulenti è aiutare a forzare il sistema non è dire di sì è aiutarvi andare oltre ieri ad ancona ho fatto una discussione con un imprenditore detto è inutile che tu mi racconti che sei bravo ma se mi hai chiamato vuol dire che c'è un problema sì ecco allora tiriamo fuori il problema diciamo le cose come stanno e i numeri non ce li ho posto lavoriamo sui numeri lavoriamo sui numeri sono volute due ore e mezza per arrivare a questa ultima definizione non vi dico che l'ho raggiunto l'obiettivo perché ve lo dico la prossima volta che lo vedo però quantomeno abbiamo incominciato a parlare la stessa lingua quindi signori sostenere le persone sono facendo solo l'ultima cosa parte da noi parte da quello che facciamo parte da una definizione degli obiettivi parte al coinvolgimento purtroppo molte volte ci troviamo in una fase di transizione applicare degli stili di leadership che sono dittatura democratica ma tra a tendere dobbiamo transitare verso un passaggio di competenze altrimenti una scelta di campo sono consapevole che sto applicando la dittatura democratica cioè fate quello che volete l'importante quello che dico io ma non mi devo lamentare se non ho neanche il tempo per andare in bagno o altrimenti devo incominciare a mettermi in parte le mie persone dedicare del tempo le mie persone ascoltare le mie persone e a volte stare zitti non dire niente basta ascoltare creiamo dei grandi cambiamenti grazie se avete domande a disposizione o adesso o dopo siamo di là